siamo a durazzano è l'unico spiraio di sole 15 giorni prima e 15 giorni dopo infatti alle tre comincerà il diluvio universale e a durazzano dove ci hanno messo le paleole che oggi non c'è vento sole e non vento io sarei dire che abbiamo aggiunto quella giusta postila al contratto carbonaro io penso che il contratto è ormai perfetto ci tutela sotto tutti i punti di vista possiamo stare tranquilli per sempre a 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